Buon pomeriggio, sono come vedete le 18.05 di venerdì 12 novembre 2021, io sono Gianluca Salvatori e sono qui per tornare su un argomento che ho già trattato diverse volte in passato, già diversi anni fa. La prima volta 11 anni fa, già nel 2010, poi rifeci un video circa quattro anni fa nel 2017 e ora mi trovo a riatrattare questo argomento. Premetto che le cose che andrò a dire sono mia personale opinione, però vi porterò un ragionamento e vi appunto motiverò le ragioni per cui io sono arrivato a queste conclusioni nel trattare la tematica dei volumi e in particolar modo un aspetto che riguarda il volume profile, ovvero io ho già più volte detto e ribadito, e chi mi segue, chi segue le mie logiche, il mio protocollo operativo a cui ho insegnato nel corso di questi anni, ho più volte detto perché non credo oggettivamente che il volume profile sia uno strumento utile per analizzare i volumi, anzi sia uno strumento assolutamente superato. Ecco, in questo video io andrò ad esporre le motivazioni logiche, pratiche del perché e vi dimostrerò perché secondo me, ripeto, mia opinione, ma credo che sarà evidente sotto gli occhi e delle prove che vi porterò, perché secondo me è uno strumento che non funziona, assolutamente fuorviante, porta delle conclusioni sbagliate, spesso fa fare cose molto sbagliate nell'analisi dei volumi e fa credere cose che in realtà non avvengono, anzi, anzi, aggiungo, è uno strumento che naturalmente conoscono anche gli istituzionali e sanno benissimo che l'investitore retail, cioè colui che fa trading, fai da te, chiamiamolo così, cioè che si è formato non in un ambiente istituzionale, ma si è formato nei vari corsi, tra i vari formatori tutti rivolti a clientela retail, cioè clientela, diciamo, privata, sanno benissimo che vanno questi clienti privati, questi trader privati che fanno trading da casa, utilizzano certe logiche, quindi vanno esattamente a vedere quelle che sono le logiche che loro utilizzano per gabbarli, per farli cadere praticamente nelle loro trappole, per fargli credere che certe cose funzionano e invece non funzionano. Ecco che vi vado a mostrare appunto questo aspetto, perché? E parto appunto da un discorso che probabilmente questo video sarà anche un po' lungo, ma vi racconterò una storia per cercare di farvela capire in modo che possa questo argomento arrivare a tutti. Una storia banale, però vi darà un esempio del perché le cose sono nate così e mi ha portato a fare queste conclusioni. Ormai da diversi anni, ripeto, io già nel 2009-2010 dissi e feci un primo video che è questo, lo trovate sul mio canale Vimeo, o Vimeo come si dice, Volume Profile, uno strumento non più valido e inefficace, come vedete 11 anni fa, siamo nel 2021 e quindi già lo dissi e lo pubblicai nel 2010. Ripresi poi l'argomento con un altro video su YouTube nell'aprile del 2017, che è questo, Evoluzione del Volume Profile, dove accennai alcune logiche, perché addirittura lo stesso inventore del Market Profile, cioè Peter Stadelmaier, nel 2011 uscì con un video in cui diceva, io detentore del marchio, io detentore del Market Profile, del marchio per cui percepisco le royalties, vi dico oggi, nel 2011, che quel modello, quel protocollo non funziona più. È un video che potete trovare facilmente su Google, andate alla ricerca su Google o su YouTube, digitate Peter Stadelmaier on Volume Strips, vedete nel 2011, è su un seminario presentato presso il CME, perché Peter Stadelmaier era il presidente del Chicago Board of Trade all'epoca in cui inventò il Market Profile, cioè nel 1983, CBOT, Chicago Board of Trade, che poi alla fine venne inglobato nel CME e divenne CME Group. Quindi oggi il detentore del marchio, del Market Profile è il CME. Bene, detto questo, arriviamo un po' agli argomenti. da trattare. Allora, cosa succede? Per capire il motivo per cui il Volume Profile oggi, che è l'erede diretto, il cugino strettissimo del Market Profile, perché non è altro che lo stesso protocollo applicato anziché ai prezzi, ma ai volumi, ai prezzi veniva chiamato TPO, Time Price Opportunity, perché era fatto sui prezzi, dobbiamo proiettare, cioè dobbiamo tornare indietro e avvolgere il nostro nastro del tempo e tornare appunto all'epoca in cui si trovava Peter Stadelmaier. Peter Stadelmaier si trovava nell'epoca in cui c'era un mercato alle grida. Questo tipo di mercato, come vedete in questa foto, ovvero il mercato è spesso, cioè è stato per decenni dall'inizio del secolo scorso, anzi dalla fine dell'Ottocento fino appunto ai primi anni 90, è sempre stato un mercato alle grida. Cosa vuol dire? Che le contrattazioni erano fatte su questi mercati abilitati, adibiti esclusivamente a trattare queste merci, queste azioni, questi future, eccetera? In particolar modo il CBOT è il mercato delle merci, dove vengono trattate le varie granaglie, il succo d'arancio come nel film Una poltrona per due, eccetera, eccetera. Non mi sto qui a dilungare. Come funzionava? Funzionava che c'erano degli operatori qualificati, dovevano passare un esame, che per scambiare queste merci e andare appunto nel mercato a comprare e vendere, dovevano passare degli esami. Questo mercato quindi non era accessibile a tutti. E che cosa succedeva? Che le contrattazioni venivano fatte con quei gesti delle mani, eccetera, abbastanza affascinanti oggi rivederli, ma singolari, perché se cercate vi dicono anche come venivano fatte queste movimentazioni del sottostante. E venivano tutti segnati su dei foglietti di carta, con un block notes dei foglietti di carta, come vedete anche dalla foto, per terra ci sono tanti foglietti di carta. Vediamo altre foto, vedete questo qui, che appunto segna la compravendita, perché poi questi foglietti di carta dovevano essere vidimati e a fine giornata si faceva la raccolta, come vedete, qui sto mostrando, queste sono semplici immagini entrate da Google, si faceva la raccolta di tutti quelli che erano appunto gli eseguiti. Quindi che cosa succedeva per un operatore? Era come oggi, come lo intendiamo oggi, che tutti potevano conoscere i prezzi delle contrattazioni? Assolutamente no, assolutamente no perché si poteva avere solo il prezzo di apertura, massimo, minimo, chiusura e volume aggregato con volume totale di quella giornata di contrattazione per quel sottostante, quando a fine giornata o ancora di più per tutti il giorno dopo sulle testate giornalistiche finanziarie di settore. In Italia il sole 24 ore in cui si leggeva domani la quotazione con tutte le variazioni di ciò che era successo oggi, quindi domani leggono ciò che succede oggi o sul Financial Times o quelle che erano appunto il Wall Street Journal, quelle che erano appunto le contrattazioni relative alla giornata precedente, perché la tecnologia non permetteva queste cose. E allora che cosa è successo? Che Peter Stadelmayer, che era il presidente del Chicago Board of Trade, trovandosi tutti i giorni su questi pit di contrattazione, dove vedeva che queste persone, i pit sono dei recinti, queste persone scambiavano queste merci e vedeva sul tabellone la variazione di prezzo, perché che cosa succede quando si fa trading? Noi guadagniamo sulla variazione del prezzo, quindi il prezzo sale o il prezzo scende di quel sottostante. E lui cosa disse? Ok, dato questo presupposto, che cosa accade quando avviene uno scambio? Si forma il prezzo, ma nel momento stesso in cui si forma il prezzo vuol dire che io ho l'incontro tra domanda e offerta, che trovano l'accordo e uno cede all'altro il sottostante in cambio di valore. Cioè mettiamo l'esempio di questa Bic, che è una penna. Io vendo la penna al prezzo di 2 euro perché l'ho pagata 1 euro, quindi c'è stata una variazione di valore nel prezzo del mio sottostante, che in questo caso è la Bic, e vedo nel tabellone che il prezzo sale o scende. Cosa fece Peter Stadelmaier? Poteva riuscire a contabilizzare tutti gli scambi? Assolutissimamente no, però era lì davanti, era nel pit di contrattazione e vedeva le cose che vedevano tutti. Allora fece un ragionamento geniale, cioè disse non ogni scambio, ma almeno ogni mezz'ora di tempo. Posso vedere quella che è la variazione del prezzo dando per scontato, sapendo che oggettivamente è così, che ogni volta che il prezzo viene formato e quindi viene battuto c'è il passaggio di denaro. Benissimo, e allora cosa fece? Disse io mi segno su un bloc notes, anche a scacchi qualsiasi, ogni mezz'ora. La prima mezz'ora è passata su questo prezzo, la seconda mezz'ora su quest'altro prezzo, la terza mezz'ora su quest'altro prezzo, eccetera. Valutava gli estremi di contrattazione. E perché non usò un codice decimale, cioè 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perché? Perché essendo ogni mezz'ora con dieci numeri copriva solo cinque ore, mentre la borsa era aperta per più ore. E allora disse, anziché usare un codice decimale, usiamo un codice alfabetico, le lettere dell'alfabeto, che in America appunto se non sbaglio sono 25. Quindi con 25 lettere copro 12 ore e mezzo, ben più delle otto ore di contrattazione. E quindi erano sufficienti. E allora cosa si trovò a fare? Ad usare assolutamente questa logica, che è questa, cioè la prima mezz'ora la lettera A, la seconda mezz'ora la lettera B, la terza mezz'ora la lettera C, la quarta D e via dicendo. Ecco, già questo è una bozza fatta in modo artigianale. Pensate che questo foglio sia un block notes, dove io scrivo per la prima mezz'ora la A, la seconda la B, la terza la C e valuto la variazione di prezzo, perché vedete ho la scala del prezzo. In questo caso questo sottostante è il future sul Nasdaq. E cosa fa? Vedete che c'è praticamente l'imbalance di apertura, perché praticamente sono il movimento delle prime fasi di giornata. E cosa succede? Disse, bene, in tutte queste mezz'ora io ho dove si muove il prezzo. E già è una bozza di grafico intraday, perché ogni escursione di prezzo rappresenta la variazione del prezzo. Cosa fece poi? Prese in prestito dalla statistica, che l'aveva già analizzato e studiato molto molto prima, ben 200 anni prima, la logica degli histogrammi. E allora dice, se io schiaccio tutto a sinistra, tutte queste lettere, probabilmente trovo quel livello di prezzo che è stato battuto più volte. Perché? Perché se è vero che ad ogni scambio corrisponde un passaggio di denaro, probabilmente in logica deduttiva, dove il prezzo è stato battuto più volte, ne posso dedurre, non ne ho la certezza, ma ne posso dedurre che probabilmente lì ci saranno anche più soldi. E allora se schiaccio tutto a sinistra e creo per ogni giornata, per tutta questa sequenza di lettere, un histogramma fatto con le lettere, ottengo quello che è il prezzo battuto più volte, che lui chiamò punto di controllo, POC l'acronimo, perché quello era il fair value, ovvero il prezzo fair, il prezzo più di, diciamo, di interesse per quella giornata. E infatti se andate a vedere, questo era il fair value di questa giornata, questo il fair value dell'altra giornata, della giornata successiva, e via dicendo. Ecco, qui è importante a questo punto fare questo distinguo. Perché? Perché già in questa condizione, lui che cosa poteva sapere? E noi dobbiamo assolutissimamente considerare, perché è questa la variabile che crea e su questa base si crea l'inefficienza di questo modello ai giorni di oggi, ai giorni nostri. Non all'epoca, ma ai giorni nostri. Ovvero, il tipo di trading che si faceva all'epoca, fino al 1983, ma ancora di più, fino ai primi anni 90, e poi vi dirò in che periodo, era un tipo di trading forzatamente multi-day. Perché? Perché anche la persona che voleva investire il privato, o l'azienda, o la banca, o l'istituzione, per forza di cose non poteva fare una compravendita nell'arco della giornata, o era molto 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 rara. Perché? Perché i tempi di realizzazione erano dilatati. Ve lo metto in questi termini. Provate a pensare al fatto che un privato, un privato cittadino, si ricca in banca e dice, io, Gianluca, nel 1983 sono, eh? Sono nel 1983. Vado in banca e dico, signor operatore, ho due milioni di lire e voglio comprare per un controvalore circa di due milioni di lire, investirli nel titolo ENI. Mettiamo, mi ricordo neanche se all'epoca esisteva ENI, eccetera, ENEL sicuramente no, ma ENI mi sa di sì. Voglio investire due milioni di lire circa di controvalore sul titolo ENI. Quanto posso comprare? Quante azioni posso comprare? Ieri ENI quotava 998 lire, no? E il signore della borsa, della banca, cosa fa? Prende il telefono, alza il telefono, chiama la banca corrispondente che gli fa da broker, che ha l'uomo adibito a stare dentro la borsa valori, cioè l'addetto all'ufficio Cambi, passa l'ordine e gli dice, guarda, mi devi comprare circa, per un controvalore circa di due milioni di lire ENI. Questo è sul pit di contrattazione, guarda il tabellone e dice, guarda, quota mille lire, ogni azione, con due milioni ne compro duemila e fa l'eseguito sul foglio, lo vavi di mare, eccetera. Io Gianluca Salvatori, che sono l'investitore privato, cosa faccio? Vado in banca e dico, ok, il giorno dopo torno in banca e chiedo, come è andata la compravendita? Quante ne ho comprate? Qual è il prezzo medio di carico? Perché non il giorno stesso? Perché non lo potevo sapere, perché la tecnologia non permetteva la comunicazione all'istante come abbiamo oggi, non c'era internet, non c'erano i computer, c'era il telefono, ok? Detto questo, l'operatore cosa fa? Rialza il telefono, chiama la banca che fa da broker, perché non tutte le banche potevano avere, avevano l'addetto all'ufficio Cambi all'interno della borsa e che cosa gli dice? Guardi, abbiamo avuto l'eseguito, per quei due milioni le ha pagate mille lire ciascuna azione, che poi oltretutto si comperavano a pacchetti, non ci poteva comprare un'azione sola, ma mettiamo che fosse così, le ha pagate mille lire ad azione, con due milioni ne ha comprate duemila, ha un prezzo medio di carico di mille lire, le faccio avere tutta la distinta dell'ordine. Tempi di valuta cinque giorni, perché proprio c'erano delle dilazioni nell'operatività, nella tempistica operativa per comprare e vendere. Quindi, fatta questa premessa, che cosa obbligatoriamente succedeva? Che il tipo di trading che facevano, anche le banche o gli istituzionali, che erano quelle che movimentavano di più, ma ancora di più il trader privato, o comunque l'investitore privato, era dilatato nel tempo. Cioè, quello che veramente faceva, era quello che oggi chiameremmo lo scalper, era quello che comperava oggi e vendeva dopo quattro giorni, cinque giorni, non rivendeva subito, perché non sapeva, perché per vedere la variazione del prezzo, doveva aspettare domani quello che riportava al giornale finanziario e vedeva vedere appunto quella che la sua azione era salita o scesa, in questi termini. Il più delle volte la tenuta di queste azioni, di questi sottostanti finanziari, era di alcune settimane o addirittura mesi o ancora di più in alcuni casi sui privati per degli anni. investitori, la stessa cosa accadeva all'investitore istituzionale, perché i tempi di realizzo erano molto dilatati. Quindi Stadelmaier fu geniale per l'epoca, perché riuscì ad ottenere un protocollo che gli permettesse di vedere appunto nel tempo l'evoluzione del fair value. Vedete molti chiamano punto di controllo POC. Ecco che il tipo di trading, abbiamo detto, era un tipo di trading forzatamente multi day. E questi qui sono tutti i vari tip punti di controllo delle varie giornate. E che cosa gli permise di vedere? In vantaggio rispetto ad altri. Il fatto di come si evolveva il fair value di quel sottostante giorno per giorno, nei giorni, nelle settimane, se aumentava o diminuiva il fair value di quel sottostante. E quindi era un grande vantaggio, non solo questo, perché usò anche una logica differente, cioè non differente, aggiuntiva a questo, complementare. Esattamente come fecero i giapponesi quando idearono le candele giapponesi per l'analisi del prezzo del riso. Molti di voi che fanno trading sanno che l'analisi candlestick, l'analisi delle candele giapponesi, che cosa ci permette di dire? Che a seconda della forma della candela, se è una lunga candela bianca, una lunga candela nera, una spinning top, un hanging man, eccetera, o addirittura la conformazione di più candele messe insieme, definiscono graficamente dei disegni, i cosiddetti pattern grafici, che preludono, ci permettono di anticipare, di riuscire ad individuare in termini probabilistici, quello che è il movimento del prezzo. Questo lo fecero già i giapponesi alla fine dell'Ottocento sul mercato del riso, che hanno inventato appunto questa analisi candlestick. In analoga situazione, fece le stesse cose Peter Stadelmaier, perché si rese conto che determinate forme di questi istogrammi, analizzandole nella loro storia, appunto, nel vedere come si evolvevano questi prezzi e quello che succedeva poi, e quali erano le forme che precedevano determinati movimenti e il movimento appunto che poi succedeva effettivamente poi, gli permise di dire guardate che determinate forme di questi istogrammi preludono solitamente, non con certezza, solitamente, statisticamente, probabilmente, a certi movimenti e ne definì quindi dei protocolli comportamentali, ma tutti rivolti ad un tipo di trading multi-day. Fatta questa premessa, quindi, che cosa successe? Che la tecnologia, come in tutte le cose, andò avanti, le comunicazioni andarono avanti, arrivò il fax, arrivarono i primi computer e nel 1992 arrivò la telematica anche sui mercati finanziari, ovvero i mercati finanziari diventarono telematici, non più posti fisici dove le persone e gli agenti di cambio, cosiddetti, andavano sul posto a fare la contrattazione. Ma, che cosa successe? le banche, cioè le singole borse, divennero praticamente un collettore, un collezionatore di queste cose attraverso i computer e i canali telematici, praticamente la telematica, quindi la trasmissione di dati tramite i computer. Tutti lo potevano utilizzare? Assolutissimamente no! Cioè solo determinati operatori e banche avevano accesso, quegli operatori che movimentavano maggiori capitali. Che quindi cosa fa? Si sono trasformati questi maggiori banche, maggiori, oggi li chiameremo broker, ma in realtà non lo sono, ma all'epoca erano delle vere e proprie banche, che fungevano da passaordini. Quindi la grossa banca che era abilitata ad essere interfacciata con la borsa stessa, e non era una, erano tre, quattro, cinque banche le più grosse, erano quelle che avevano il flusso dati interfacciato con la borsa, quindi recepivano tutti gli ordini di acquisto o di vendita e li trasmettevano alla borsa, la quale quindi dava accesso solo a determinati operatori abilitati. E quindi era un qualcosa riservato solo a determinate logiche istituzionali. La banchetta, diciamo, locale, se voleva comprare, che lo poteva fare, naturalmente succedeva, che cosa faceva? Telefonava, faceva degli accordi con la grossa banca che aveva accesso alla borsa, che usava come broker, da intermediario. Quindi queste grosse banche fungevano anche da broker per le realtà più piccole bancarie di compravendita. Il privato poteva accedere? Assolutissimamente no, assolutissimamente no, perché non ne aveva la tecnologia. Quindi che cosa successe? Che nel 1992 il mercato diventa telematico. Non è un caso che la prima borsa a livello mondiale, in questo abbiamo un record ad essere telematica, è stata la borsa di Milano. MIBTEL sta per Milano, indice di borsa telematico. Fatto questo, quindi che cosa succede? Che si crea? Si creano delle alternative nuove, si apre una porta a delle possibilità nuove. E chi sono gli operatori, come abbiamo detto, che hanno accesso a questi mercati? Gli operatori istituzionali primari. Qui bisogna fare una parentesi. Chi furono i primi a trarne beneficio e ad evolvere questo protocollo? I fondi pensione. I fondi pensione sono quelli che raccolgono soldi da parte tutti i privati, tutte le pensioni eccetera, li investono naturalmente, perché sono investimenti di lungo periodo. E il fondo pensione è un istituzionale, perché muove miliardi e miliardi di dollari, o oggi di euro diremmo all'epoca migliaia di miliardi di lire. Hanno i mezzi, gli strumenti e le capacità per avere appunto un collegamento diretto con la borsa? Assolutamente sì, erano proprio tra quegli istituzionali privilegiati e avevano anche i computer per poter collezionare queste cose. E quindi che cosa fecero? Furono i primi che avendo gli strumenti, le necessità e la capacità di accesso al mercato, crearono un'evoluzione di questo protocollo e furono quelli che inventarono il VWAP. VWAP sta per Volume Weighted Average Price, cioè un prezzo medio pesato per i volumi. Perché? Ricordiamo sempre, qual era l'obiettivo di Peter Stadelmaier con il POC? Trovare il Fair Value. Che cos'è il Fair Value? È il punto di equilibrio, cioè il punto dove viene scambiato maggiormente il prezzo che secondo il mercato è il prezzo che fa la differenza, ok? Ma in realtà, matematicamente, qual è il prezzo che fa la differenza? È il prezzo dove stanno in equilibrio i compratori con i venditori in base ai soldi messi. E il VWAP misura esattamente questo, tant'è che oggi è il benchmark di riferimento di equilibrio. Perché il VWAP è una media di prezzo pesata per i volumi. Volumi in acquisto e volumi in vendita. Quindi, su quella media, su quel VWAP, stanno in equilibrio la forza dei compratori che spingono al rialzo con la forza dei venditori che spingono al ribasso. Quindi, è il prezzo dove entrambi stanno effettivamente in equilibrio. Ed è quello il vero punto di controllo. Ma detto questo, quindi andiamo avanti nell'evoluzione di questo modello. Cosa succede? Torniamo al nostro siparietto, all'investitore privato che si reca in banca e compra il titolo. Mettiamo che siamo di nuovo appunto nel 1992, io mi ripresento nella filiale bancaria e gli dico, signor operatore della banca, dell'ufficio titoli, ho di nuovo due milioni di lire. Ancora c'erano le lire. Voglio investire questi soldi. Ok? Li uso come pensione. Voglio di nuovo comprare il titolo ENI. Sai, io voglio farmi la pensione sul titolo ENI. Perché credo che il futuro sia un buon titolo su cui investire. Quanto posso comprare con due milioni di lire? E l'operatore della banca, questa volta che è diventata telematica, quindi al flusso dati, glielo sa dire dire direttamente dal terminale. Perché apre il terminale e vede che c'è un prezzo. E gli dice, guardi, oggi ENI quota 2.000 lire. E l'investitore privato, ah caspita, io nell'83 ne comperai sempre 2 milioni di lire ma le pagai 1.000 lire. Oggi 2.000 lire ho fatto già in nove anni il 100%. Però non è niente male. Benissimo, con 2 milioni di lire, quindi a 2.000 lire l'una, al titolo, ne compro 1.000. Mi fa l'eseguito, le do autorizzazioni a procedere. E l'operatore dal terminale inserisce l'ordine e compra. Lui firma il modulo e di nuovo ci sono sempre 5 giorni di valuta. Ma l'operatore, cioè il privato, di nuovo, può vedere le contrattazioni in tempo reale? No, non ha gli strumenti. Non so se alcuni di voi, forse i più giovani, non si ricordano. Quelli un pochettino più attempati, neanche troppo, diciamo si ricorderanno che si poteva andare in banca, c'era la televisione con il televideo, o addirittura fuori le vetrine delle banche, c'era spesso una sorta di display che faceva passare le quotazioni di questi titoli. In ritardo, anche di mezz'ora. Ma già mezz'ora in ritardo, rispetto a vederli il giorno dopo, era un grandissimo vantaggio, diciamo, tecnologico, telematico. Perché li vedo mezz'ora dopo di quando sono effettivamente succedute, non domani. E allora già i tempi sono un po' più brevi. Però il tipo di trading che ancora è possibile fare è un tipo di trading dilattato nel tempo. Dilattato nel tempo, quindi ancora multi-day, un pochettino più veloce, perché se voglio compro oggi e magari rivendo anche fra 4-5 giorni, mentre prima rivendevo dopo qualche settimana. Però già qualche settimana non è più 4-5 giorni, non sono più qualche settimana. E quindi già succede questo. Poteva ancora vederlo nel sole 24 ore, o nel Financial Times o il Wall Street Journal, il giorno dopo. Però comunque la logica operativa era dilatata ancora nel tempo. Che cosa succede? Che di nuovo la tecnologia va avanti. E la tecnologia coinvolge e intacca tutte le cose che si fanno. Perché pensate in che modo qualsiasi evoluzione tecnologica è arrivata a cambiarci il nostro modo di vivere. Che cosa succede? Arrivano, arriva internet, i primi home computer, qualcuno inizia ad avere i primi computer a casa, i primi modem, vi ricordate quei modem che si collegavano, che facevano quel rumore strano, no? Con la linea telefonica. Quindi o telefonavi o eri collegato ad internet. 28K, 33K, 56K, le prime ADSL. Ci fu nel 2000 l'evoluzione per le frequenze UMTS che poi appunto si svilupparono. E oggi abbiamo tutti questo. Oggi abbiamo tutti questo. Che cos'è? È il cellulare. Ci sono più cellulari che telefoni effettivi. Vi sfido io, se volete fare una telefonata, a trovare una cabina telefonica. Non c'è più. E una volta era pieno. Vi sfido io, se volete trasferire un documento, oggi nel 2021, ad inviare un fax. Se trovate qualcuno che ha ancora la macchina del fax che riceve. Non esistono più. Perché c'è stata un'evoluzione tecnologica. E questo strumento è effettivamente un telefono per cui è nato? O è più un computer, un cosiddetto device, un dispositivo che ci permette di avere delle comunicazioni ultra veloci. La maggior parte delle cose che facciamo sono delle app, cioè dei programmi nel telefono. Anche e soprattutto di comunicazione. Whatsapp è un esempio. In vari messenger, telegram, eccetera eccetera. Ma che cosa ci permette di fare? Di avere in tempo reale, fare delle videochiamate, parlare con una persona dall'altra parte del mondo e vederla come fosse qui. E ci permette anche di fare che cosa? Di avere questo. Di avere anche delle applicazioni, dei widget di investimento. Questo è il widget di investing. E io posso vedere che cosa fa l'indice DAX in tempo reale. Vedete? L'indice DAX, qui c'è la pubblicità. Naturalmente esco dalla pubblicità e mi fa vedere in tempo reale quello che è l'andamento in real time di quello che è il sottostante che io voglio seguire. A me, da qui, da qualsiasi parte dove io mi trovi. E secondo voi questa tecnologia che mi permette di vedere qualsiasi cosa anche sui mercati finanziari, di poter comprare e poter vendere, non ha avuto un impatto sul mercato, sul comportamento, sull'evoluzione sociodinamica del mercato, su una variabile sociale e comportamentale di chi ha accesso al mercato? Certo che lo ha avuto, come in tutte le cose. Lo ha avuto ed ha cambiato tante cose. Perché? Perché bisogna ricordare una cosa, cioè se io entro in borsa e voglio comprare o vendere un titolo, mettiamo comprare, qual è l'obiettivo di tutti gli operatori che sono presenti sul mercato? Che siano retail, quindi privati o istituzionali, di qualsiasi grado, livello, forma e importanza, a prescindere dai soldi che possano utilizzare. È quello di comprare a uno la penna e rivenderla a due, a tre, a quattro, a cinque. Qual è il pazzo che mette soldi a uno per rivenderla a uno? Nessuno. E sembra una cosa scontata, ma è importante perché ci torniamo adesso. Perché? Perché detta, fatta questa premessa, proviamo a immaginare questa cosa, cioè l'applicazione, perché sappiamo tutti che il volume profile è l'evoluzione del market profile, non più applicata ai prezzi, ma ai volumi, cioè veramente a dove mettono i soldi. Perché non è detto che se quel livello di prezzo è stato battuto più volte effettivamente lì ci siano più soldi. Oggi, proprio grazie al fatto che il mercato si è evoluto, è diventato un mercato telematico, che cosa succede? Che possiamo sapere anche con precisione dove sono stati messi più soldi. E allora il market profile diventa appunto volume un profile. E quello che il maggior livello di, diciamo, di persistenza di prezzo battuto sui prezzi era il POC, chiamandolo sempre nello stesso nome, ma sui volumi, di nuovo si trasforma il POC di volume, il punto di controllo di volume. Ok? Che in realtà in statistica però è la moda statistica, cioè il picco di maggior persistenza. Ed è questo. E che cosa succedeva una volta? Una volta succedeva questa cosa qua, ovvero io non potevo vedere quello che erano le effettivamente le barre. Vedevo una giornata ogni singola giornata all'epoca. Con l'avvento delle contrattazioni telematiche, il mercato diventa telematico, posso vedere anche le barre nei minuti, nel tempo in cui si formano. E questa cosa oggi, come vi ho fatto vedere anche con un semplice widget o app dal telefonino, figuriamoci dai computer fissi, portatili, con le varie piattaforme, la possono vedere tutti. E che cosa comporta il fatto che tutti possano vedere quella che è l'evoluzione del prezzo durante la giornata di contrattazione? Che se io mi rendo conto che sono entrato su un prezzo e ho pagato la penna 1 e in tempo reale il valore del prezzo sale della penna, va a 1,5, 2, 2,5, 3, io mi proteggo. Io proteggo il mio acquisto perché? Perché cerco di non riuscire a 1. Perché chi è, come dicevamo prima, che compra a 1 per rivendere a 1. Matto che mette a rischio il proprio capitale senza avere la pretesa minima e l'aspettativa minima di vederselo remunerare. Quindi ho pagato 1, ho messo n soldi, n migliaia di euro per pagare 1 la penna, se va a 2, 3 eccetera, metterò uno stop loss a protezione o addirittura se penso che sia salita tanto inizio a venderla ad un certo prezzo. Ipotizziamo che ho guadagnato. La penna anziché salire il valore del prezzo sale, scende, da 1 inizia ad andare a 0,90, 0,80, 0,70 eccetera, oddio sto perdendo, lo vedo subito, c'ho addirittura un'allerta, un messaggio di allerta, un'email che mi arriva perché si possono attivare anche tutti questi allarmi. Non voglio perdere oltre, faccio attivare, scattare il mio stop. Che vende? Vende a 0,70. Che cosa è successo se vendo a 0,70 in stop o se vendo a 2 perché secondo me ho guadagnato tanto, ho fatto già al 100%, che i soldi che ho messo a 1 non ci sono più. E perché lo posso fare? Perché ho la tecnologia disponibile a chiunque, non più solo all'investitore istituzionale, scusate, che permette di dire, ah, devo guardarlo il giorno dopo, i giorni successivi, magari aspetto. Ma quando mai? La vedo subito. E se oggi fate una valutazione proprio esperienziale, anche spannometrica dell'uomo della strada e chiedete di chi fa trading o tra i vostri amici che fanno trading, quanti fanno posizione e quanti fanno trading intraday? La maggior parte vi dirà che fa trading intraday, tant'è che sono nati strumenti per fare proprio queste cose. Sono nate piattaforme per fare scalping, pensate a Bookmap o a tante altre piattaforme proprio per fare scalping. Sono nati strumenti che prima non esistevano, i CFD, contract for difference, per permettere l'accesso ai mercati, anche mercati che solitamente richiedevano capitali ingenti, come i futures, invece con piccole cifre, quindi con piccole quote di capitale. Sono nati appunto i broker Forex e CFD, proprio per fare questo, per dare accesso a chiunque. Pensate al fatto che il mercato non dura più solo otto ore, ma si è esteso, è diventato Globex, cioè 24 ore su 24. Sono nati nuovi strumenti anche regolamentati come i micro futures. Perché sono nati i micro futures? Per dare accesso a tutti al mercato e dare accesso a tutti significa anche fornirgli la strumentazione per poterlo fare, fornirgli la strumentazione in tempo reale. E allora, venendo a noi, come mai queste zone di volume e andiamo a vederle, ingrandirle, vengono bypassate come niente e vengono toccate e veramente superati questi cluster, cioè cluster significa aggregato di volume, viene superato come nulla fosse dal mercato. Dalla mattina alla sera, figuriamoci i giorni successivi. Proprio perché chi vede che ha investito dei soldi, li ha tolti. La persona, prendiamo l'esempio massimo, tutti questi POC, come li chiamate voi, questi picchi dei volumi, no? Qui era la linea rossa e adesso la faccio blu. Questo è il mercato in tempo reale. Prendiamo proprio queste situazioni qui. Come mai il POC di ieri, il mercato qui, il nuovo giorno, è andato giù e poi c'è passato sopra come niente. Come mai questa zona di volume qui, questo aggregato di volume, il mercato è andato proprio fin sopra per poi crollare in modo drastico e veloce? Perché è proprio fin sopra questa zona di volume? Perché l'istituzionale ormai, sapendo quello che è il materiale di studio dell'investitore privato o retail, dice, ah, sai cosa fa il retail? Pensa che il picco dei volumi lo protegga. E allora io, se spingo il mercato, arrivo esattamente fin sopra quel picco di volume, dove lui cede, non tiene più, perché dice, ah, qui mi scatta lo stop, perché non posso tenere, perché quanto lo tengo? 5, 10, 20, 50 punti, anche questa variabile. Come faccio a definirla? Dove so che si ferma? Non esiste, perché molti vi dicono, ah, guardate che questo picco dei volumi vi protegge, è un muro di volumi messo lì da qualcuno che vi protegge, ma dimentica che il mercato sia evoluto. Chi vi racconta queste cose non tiene in considerazione l'evoluzione tecnico-tecnologica che ha subito il mercato. E perché il mercato qui è andato fin qui e poi ha collassato? Perché su questo picco dei volumi il mercato, vedete, ci è arrivato poco sopra, è ritracciato e poi ci è andato su di nuovo. Come mai tutti questi aggregati di volume fatti due giorni prima, eh? Sono stati ben passati come niente? Come mai? Come mai questo giorno qui, che è il POC, no? Chiamiamolo così, del giorno precedente, il mercato c'è andato di nuovo sopra e sotto, come niente qui addirittura è andato su a bomba, senza proprio sentirlo minimamente. E queste zone qui, no? Che dicono, ah ma no, qui ci sono tanti volumi che vengono dai giorni prima, tutta questo aggregato qui di volume, guardate come il mercato proprio se l'è strafregato. È andato sopra qui, questa zona qui, l'ha passata come nulla fosse. Come mai? Alcuni li chiamano POC vergine, Virgin POC. Perché? Perché due giorni prima, oggi come oggi, è diventato un tempo abissale. Non ci sono più i soldi lì. Non ci sono più. E quindi, non ha senso, ma possiamo andare indietro anche quanto volete. Prendere esempio qualsiasi situazione. Come mai qui il mercato, guardate queste giornate qua, a modo proprio palese, questo aggregato di volumi qui, no? Fatto qua, il mercato è sceso, dice beh adesso il mercato scende nel giorno nuovo e io qui ho una protezione, sì. L'ha sentito, l'ha bucato fin sopra e poi è tornato giù e è andato qua. Ah, allora ha creato questa nuova protezione qua, dove addirittura all'interno c'è il nuovo POC, no? Il POC del giorno precedente, che è questo. Guardate cosa ha fatto, è andato giù e su come nulla fosse, per poi tornare giù come una lama. Cioè, quello che vi sto dicendo è questo. Questo modello operativo è stato geniale e funzionale perché è nato in un momento storico in cui non si poteva fare altrimenti, perché non c'era la tecnologia, ma il cambio della tecnologia ha comportato un cambio comportamentale nelle persone, negli operatori, a partire dagli istituzionali fino al retail. E qual è la beffa, se vogliamo chiamarla oggi? Che l'istituzionale lo sa benissimo, tant'è che come ne ha avuto l'opportunità ha trasformato il volume profile in VWAP, perché il fondo di pensione hanno creato nel 1992 il VWAP Volume Weighted Everage Price. Perché? Perché ha detto, ma perché devo usare una logica deduttiva, approssimativa, quando posso calcolarlo con certezza, quello che è il prezzo di equilibrio? E invece oggi il retail, il privato studia questa cosa e secondo voi? L'istituzionale che di professione fa questo, non sa qual è la logica del privato? Cioè io di professione faccio l'investitore e muovo miliardi, ok? Ho grandissimi capitali da tenere lì, tempo che il privato non ha, capacità di tollerare oscillazione del mercato che il privato non ha. Non sfrutto queste tre variabili a mio favore proprio per prendere nel sacco il privato e allora vado a prendere questi stop esattamente qui sopra quest'area di volume, li faccio saltare tutti e vengo giù come una lama. Perché? Perché l'istituzionale sa benissimo che il privato una volta che prende lo stop è disorientato emotivamente, lo fa saltare. E perché lo fa saltare? Perché non vuole che mille privati che mettono un contratto l'uno, magari controbilanciano un solo istituzionale o due che mettono insieme mille contratti e non li vuole alla sua tavola. Non li vuole far mangiare alla sua tavola, perché magari dove lui si chiude, si chiudono loro e gli rompono le scatole. E allora li fa fuori e ne ha le armi per farlo, ne ha le capacità, ne ha anche gli strumenti e le conoscenze. Invece il privato va sempre dietro dove dicono gli altri. Perché questa è una tecnologia strasuperata, strasuperata. E a me in tutta sincerità stupisce, ma potete trovare mille soluzioni. Perché guardate qua, questo picco dei volumi qui, il giorno dopo è passato sopra come niente. Picco dei volumi qui, il mercato c'è passato sopra, è ritornato sotto fino qua, due giorni dopo è come niente. Qua lo stesso. Come mai questi livelli vengono passati come niente. Guardate, qui addirittura proprio sotto e poi è ritornato su. Lo ingrandisco qua, qua su. No? Guardate, qui c'ho il picco dei volumi. Il giorno dopo proprio va fin sotto. E io dico, come faccio a tenere 10, 20? Quanti sono i punti che devo tenere dal POC? 5, 10, 20, 50? Non lo so. Perché lui ci passa sopra e sotto come niente. Li fa saltare tutti e guardate come è salito proprio come un razzo è salito. Come mai? Perché l'istituzionale che ha i soldi per muovere il mercato sa benissimo quali sono le logiche del privato, del piccolo, che non ragiona da istituzionale, ragiona da piccolo perché guarda il suo orticello. E allora se continui a usare ancora il sestante, faccio questo parallelismo, il sestante per cercare la rotta che può avere dei margini di errore. Quando hai il GPS e Google che ti dice gira a destra, gira a sinistra. Io non dico che sei matto, ma sei sicuramente su un altro pianeta, vivi appunto nel passato. Perché oggi Google ti dice guarda vai a destra, vai a sinistra, ti ricalcolo la strada in tempo reale se ci sono dei lavori in corso perché lo sai viene segnalato. E te mi calcoli la rotta col sestante o le stelle perché una volta si faceva così? È un controsenso. Ecco che io dico fate attenzione, guardate come quel picco dei volumi il giorno dopo di nuovo, pam, proprio non l'ha sentito minimamente, ma ci è passato sopra come una lama calda sul burro. E c'è chi dice, ma no, ma sapete, allora vanno a chiudere i vuoti di volume. E quando? E non si sa quando. Come non si sa quando? Ma allora che tipologia di trading posso fare io? Aspetto mezza giornata, un giorno intero perché c'è magari un vuoto di volume di 5 punti, 20 punti da coprire e sto due giorni senza fare niente perché il mercato in tante è andato 300 punti e la parte opposta. Ma che senso ha? C'è chi addirittura va a guardare i livelli di volume di giornate e precedenti, settimane precedenti perché ti fa il volume profile settimanale, mensile, qui ci sono volumi ancora, questa è una zona di volumi di supporto, ma quando mai? Se il mercato gli smonta quei volumi proprio perché li toglie, perché chi è quello che tiene ancora i soldi lì, che ha messo i soldi lì dopo che si è visto andare in vantaggio nel mercato i 100, 200, 500 punti? Chi è che non lo protegge? L'istituzionale? Ma stiamo scherzando? Ma assolutamente, io poi spiego anche perché accadono questi movimenti e come ragiona l'istituzionale, perché dobbiamo imparare a ragionare da istituzionali, non da retail, ma se continuate a usare questa logica qui, che è stata creata nel 1983 quando la tecnologia era diversa e come dire, e io più volte l'ho detto, oggi nel 2021 voglio andare in America negli Stati Uniti? Siccome il primo ad andare negli Stati Uniti ha usato delle caravelle, cioè nelle navi a vela, oggi negli Stati Uniti si può arrivare solo con le navi a vela, perché quello è il modo. Però io sfido qualcuno e dirti, guarda che hanno inventato l'aereo, cioè da Roma a New York in otto ore ci arrivi e nel tempo in cui quello ci arriva con la barca a vela, la nave a vela, quello che ha preso l'aereo, perché sono passate una settimana o dieci giorni, si è già fatto tutta la vacanza, ha ben arrivato qui, sai, nel frattempo ho imparato già la lingua. Cioè è qualcosa di inconcepibile non arrivare a capire questo. Ecco che io dico, e perché faccio questo video? Perché più volte mi sento contattare da persone che dicono, ah ma io sai sono esperto di volumi, uso il volume profile, guarda che forse stai usando uno strumento che è strapassato, è proprio passato da molto, è solo che non ti è stato spiegato. C'è chi ha fatto libri su queste cose. Lo stesso, ripeto, mi ripeto, ribadisco, lo stesso Peter Stadelmaier, in questo video, lui, detentore del marchio delle royalties sul market profile, ha detto nel 2011, in un seminario insieme, signori, il mio protocollo con l'evoluzione dei mercati, io questa cosa la dissi già, anni fa la dissi, lui disse, il mio protocollo con l'evoluzione dei mercati, con le nuove tecnologie, non funziona, tant'è che cercò di creare un'evoluzione che erano appunto le volume strips, queste, che poi sono stati un flop totale, non se ne filate nessuno e non funzionavano, però perché ha avuto la necessità di evolversi? Perché ha detto, il protocollo non funziona, perché c'è stata un'evoluzione tecnico-tecnologica che ha comportato un'evoluzione comportamentale degli operatori sul mercato. E voi che vi avvicinate al trading, vi affidate a questo protocollo? E io di nuovo dico, fate attenzione, fate attenzione perché non arrivare a contemplare questa cosa vuol dire non aver capito come funziona il mercato, non usatelo perché vi fa fare le cose peggiori nel momento peggiore, perché l'istituzionale è quello che vuole che voi facciate, perché sa benissimo che lì dietro mettete gli stop e li va a prendere, e poi va dalla parte opposta, come vi ho fatto vedere, cioè questo qui non è che l'ho inventato io, questo è il Nasdaq di questi giorni, oggi è il 12, è il Nasdaq in tempo reale, questo è il Nasdaq in tempo reale alle 18.56, cioè l'orario attuale, le 18.56, 43 secondi, è l'orario che abbiamo adesso, è l'orario di adesso, quindi non è che mi sto inventando queste cose, le ha fatte, le ha fatte assolutamente e le fa al mercato così, perché va a prendersi gli stop, ci sono delle logiche diverse, che funzionano in modo diverso, perché il mercato si è evoluto e quindi è fondamentale capire questo. Poi dopo c'è anche chi cerca di insegnarvi la logica di utilizzo del VWAP, sbilanciamenti eccetera, e io anche lì mi permetto di dire che ho sentito dire in delle interviste, in dei webinar o addirittura le fonti TV, delle castronerie esagerate, ma castronerie esagerate, veramente, da un punto di vista matematico e statistico, però lasciamo perdere, ecco, è fondamentale però sta cosa, perché vi ho fatto sto video? Perché? Che cosa ne guadagno? Assolutamente niente, a me non me ne frega niente, io il mio libro addirittura, il pentagramma di borsa lo regalo, quindi non mi entra un euro, però vedo persone un po' demoralizzate che mi contattano, cercando di andare un po' oltre il problema che hanno avuto, che hanno preso nei denti tante di quelle sberle in faccia, perché utilizzano un protocollo che dicono io non lo so perché, ma non riesco a farlo funzionare, ho fatto corsi su corsi da tizio, caio e semproni, ho pagato migliaia di euro, ma non riesco a guadagnare, e io gli dico guarda che forse utilizzi lo strumento sbagliato, forse utilizzi lo strumento sbagliato e allora provocatoriamente gli dico fatti vedere dal tuo insegnante che ti ha insegnato queste cose i report certificati degli eseguiti fatti con questa metodologia, se riesci a guadagnare, perché io non l'ho fatto e tantissimi altri, cioè non sono riuscito a guadagnarci quando lo utilizzai, e tantissimi altri come me ci hanno sbattuto i denti e ci hanno lasciato un sacco di soldi, io già diversi anni fa, ma ho capito, ho capito perché mi sono messo nei panni della persona e ho detto ma perché non funziona sta cosa, mi sono fatto sta domanda e sono andato un po' a fare un ragionamento che andare oltre ciò che appare ovvio, cioè me lo dicono così, è ovvio, io sai me lo dice tizio che è persona qualificata e non metto in discussione quello che fa tizio, però io non guadagno, e allora o tizio mi ha raccontato delle bugie, o tizio mi fa vedere come guadagna usando questo protocollo, non altri protocolli, me lo fa vedere proprio come UTI, fa trading, operazioni fatte su questo protocollo che mi ha insegnato, perché io e gli altri amici miei che abbiamo fatto il corso, che ci sentiamo via telegram, via skype, eccetera, non guadagniamo, e sapete quanti ne ho sentiti io? E quanti poi ne ho formati dopo? Tanti, 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 formati pochi, perché poi dopo io ho un protocollo particolare, eccetera, ma mi hanno scritto in tantissimi, in tantissimi, allora questa è la mia opinione, potete non condividerla? Assolutissimamente, siamo in un mondo libero, però ho cercato di giustificarla, di spiegarvela, forse in un video fin troppo lungo, perché sono 55 minuti che sto registrando questo video e che parlo, sono logorroico, sono logorroico, va bene, però comunque lo faccio, non mi chiede niente nessuno, non ho chiesto i soldi a nessuno, e credo di aver detto una cosa ovvia, giustificata, perché vi sto facendo vedere il mercato in tempo reale, non è che funziona solo sul Nasdaq, funziona su tutto così, su tutto così, poi forse un giorno vi farò vedere anche altre cose sui volumi, importantissime, molto importanti, per adesso no, per adesso mi rifermo e ribadisco questo, perché è una cosa che io già feci vedere in un primo video, nel 2010, su questo qui, e già facevo vedere che queste zone di volume venivano ben passate come niente, mi replicai nel 2017, il 23 aprile del 2017, evoluzione del volume profile, eccetera, e ribadisco oggi, cioè vi dico questo, anche quello che ho detto qui è stato un po' un palliativo, no? Il delta dei volumi, qualsiasi volume, totale, parziale, delta, eccetera, per livello, i volumi per livello non valgono niente, perché chi mette soldi in un punto ha l'obiettivo di smontarli su un altro livello di prezzo, quindi quei soldi lì, lì, non ci sono più, non si può avere la pretesa che quel livello di prezzo funzioni ancora, non si può avere questa pretesa, perché vuol dire non aver capito che la persona che entra nel mercato lo fa per creare proprio il fine ultimo, longo, short, e quello di creare un differenziale di prezzo, tant'è che le piattaforme come Bookmap, eccetera, fanno esattamente queste, vedere dove sono i volumi per livello e dire, guarda che se i volumi sono lì, li vanno a prendere, perché lì ci sono tanti volumi e il mercato va proprio lì per prenderli, per prenderli e mangiarli, cioè fare esattamente l'opposto, chi insegna il volume profile dice, ci sono i volumi che ti proteggono, no, oggi fanno, ci sono i volumi lì, andiamo a prenderli, e quindi ci passano sopra, è fondamentale questo, si è ribaltata completamente la logica. Io spero di aver fatto cosa utile, naturalmente ci sarà qualcuno a cui questo video dà fastidio, perché io ho l'hater privato, no, cioè quello che spesso mette il non mi piace alle mie cose, e se non me lo mette sinceramente un po' mi scoccia, perché vuol dire che non ho fatto una cosa giusta, e ho fatto una cosa banale, ecco, probabilmente, e quindi questa cosa che vi ho detto, sicuramente ad alcuni darà fastidio, o per convinzione personale, o perché magari hanno degli interessi dietro, ma non è questo, ognuno è libero di pensare come gli pare, come meglio crede e come vuole, ma per carità, io ho cercato semplicemente di portarvi il mio ragionamento ad un protocollo che secondo me non funziona più, poi voi fate quello che credete utile, se vi piace usarlo, riuscite a usarlo, ben venga, allora magari sono io che vi chiedo, mi fate vedere come riuscite ad usare questa cosa, perché io non ci sono riuscito e tanti altri come me, e forse ho sbagliato io, però mi trovo quotidianamente ad osservare il mercato e starci davanti a vedere che questi livelli di volume, HVN, LVN, High Volume Node o Low Volume Node, vengono ben passati e passati sopra come niente, perché alla base c'è un principio unico, in borsa entrano tutti per creare un differenziale di prezzo, la penna la pago uno e la voglio rivendere a due, quindi i soldi che ho messo a uno quando l'ho venduto a due, ciao, non ci sono più, ok? Un saluto a tutti e buona serata!